Presenza di ratti e dei loro escrementi, rifiuti sparsi nei cortili e negli spazi scolastici. E' questo il resoconto della denuncia che arriva dalle famiglie dei piccoli bambini dell'Istituto dell'Infanzia, facente parte del secondo istituto comprensivo, attualmente ospitato presso la struttura del terzo comprensivo di Livia Leonardo da Vinci a Nocera Inferiore. Una denuncia netta, chiara, con i genitori dei piccoli che parlano di una situazione insostenibile, con un avvio scolastico traumatico, caratterizzato dalla presenza nel cortile del plesso denominato Santa Chiara di rifiuti di vario genere. Le sorprese negative, denunciano ancora i genitori, non si sono fermati qui, avendo trovato ratti ed escrementi all'interno dell'Istituto, nonché la presenza di rifiuti occultati da un semplice telo ed appoggiati su un banco. La rabbia dei genitori sta anche nel fatto che, a detta loro, gli interventi di direttizzazione attuati siano stati eseguiti alla presenza dei bambini, col timore di danni igienico-sanitari agli stessi, preferendo a questo punto un'eventuale chiusura del plesso per ottimizzare le condizioni sanitarie alla struttura. In merito è però intervenuto ai nostri microfoni l'assessore all'edilizia scolassica Gianluca Perna, che ha voluto chiarire prontamente la situazione, facendo luce su alcune dinamiche parse disinformative. Riguardo ai rifiuti, si è trattato di un errato conferimento di rifiuti della scuola. Questa situazione è stata attenzionata ed è tuttora attenzionata dall'amministrazione comunale, in quanto i rifiuti non possono essere abbandonati all'interno del cortile scolastico, dove tra l'altro insistono i bambini e quindi ci sono problemi igienici. E tra l'altro sono stati abbandonati dei rifiuti anche di natura speciale, che non possono essere assolutamente conferiti e che non possono essere portati all'isola ecologica. Nonostante questo, la Multiservizi è comunque venuta a prendere dei rifiuti, sta prendendo la rimanenza, proprio perché abbiamo attenzionato la situazione e per problemi igienici abbiamo voluto tutelare quelli che sono i bambini. Ma questo conferimento è assolutamente errato. La scuola non può conferire, quindi attenzionata per questo dall'amministrazione, non può conferire rifiuti all'interno del cortile, ma deve conferirli nelle modalità di conferimento normali, ovvero al di fuori del plesso scolastico, secondo la raccolta e quindi dei vari materiali, e al massimo può telefonare all'isola ecologica per prendere un appuntamento qualora ci sia qualche materiale. Quanto riguarda invece la situazione dei topi, voglio appunto spiegare come la situazione è venuta fuori. Praticamente è stato ritrovato un topo morto, immediatamente l'amministrazione ha contattato la ditta Ecofly, che è la ditta che lavora per conto dell'ASL Salerno, la ditta è venuta sul posto, ha operato la prima fase della derattizzazione, che si opera in presenza quindi perché non ha assolutamente effetti tossici, e poi ha operato una sanificazione a scuola chiusa, quindi di orari pomeridiani. Successivamente, quindi mettendo delle trappole al di fuori in punti strategici non raggiungibili dai bambini. Successivamente, in una prima fase non c'è stata alcuna presenza di escrementi né di topi. Inizio di questa settimana è stata riscontrata la presenza di un topolino e la presenza ieri di escrementi, escrementi di colore blu, ovvero lo stesso colore del veleno che quindi è stato ingerito dai topi che stanno andando a morire. Chiaramente i topolini più piccoli, essendo più piccoli, non mangiano subito quel cibo, ma si nutrono dai genitori, dalle mamme, e questo ha comportato un ritardo nella morte dei topi. Voglio chiarire però che si tratta di puri, di topi di campagna e non di ratti e topi delle fogne. Qual è la differenza? La differenza è che i ratti e i topi delle fogne sono portatori di agenti patogene e quindi di malattie. I topi di campagna assolutamente no, l'uomo ci convive dall'inizio dei tempi. I classici dovranno mappare proprio questi escrementi per capire anche se stanno morendo e come stanno morendo i topi e ha chiaramente chiesto, ha detto alla scuola chiaramente, molto semplicemente, che non c'è bisogno di una chiusura del plesso, ma soltanto di questa igienizzazione. A quanto mi risulta, la scuola ha disposto l'arrivo di ulteriore personale di collaboratori scolastici dagli altri plessi la mattina alle ore 7, in modo che ha un'ora per igienizzare l'eventuale presenza di queste macchie. Che l'eventuale chiusura del plesso scolastico non è una possibilità per l'amministrazione a meno che la ditta stessa Ecofly, che lavora per conto dell'AS, non avesse intimato problematiche di natura igienico-sanitaria. Frequenta questa scuola mia figlia e anche la figlia del sindaco. La figlia del sindaco, la primaria al piano superiore, mia figlia proprio, una delle aule interessate da questa problematica. Ed è tuttora a scuola, è stata a scuola in questi giorni. E sottolineo perché assolutamente ci hanno assicurato e non c'è nessuna problematica igienico-sanitaria e altrimenti avremmo mai fatto correre i rischi ai nostri figli, che amiamo più di ogni altra cosa al mondo.